Siamo con Di Perna al termine di 300 contro Farina Socher 2-4 Un capitano, c'è solo un capitano, un capitano Tanto entusiasmo come possiamo vedere Il casa Farina Socher viene spontanea una cosa da dirti Classe 1978 abbiamo visto però l'entusiasmo di un ragazzino Corre ma ha colpito anche le parole dalla panchina Sempre positivo, atteggiamento propositivo Cose molto belle da vedere Diciamo che l'età qualcosa mi ha insegnato 45 primaveri a qualcosa sono servite Abbiamo visto anche il gol Hai sorpreso anche noi che stiamo facendo la telecronaca Gol autentico Non ero nuovo a questi gol Spero che tu l'abbia ripreso a dovere L'abbiamo preso Faccio l'ultima domanda, questo è un po' più sull'aspetto della partita È molto bene il primo tempo Poi forse nel secondo tempo avete patito il loro ingresso Probabilmente anche un po' più cattivo Hanno riparto la gara ma bravi comunque mai a non disunirmi Hai fatto una sintesi perfetta Al primo tempo siamo stati superiori Al secondo tempo un po' ci siamo adagiati Sugli allori del primo tempo Sono venuti fuori, è stata una bella partita Anche abbastanza corretta Va bene così Dove può arrivare questo Farina Social? Sicuramente in Porto E come ho già detto speriamo col vestirlo pure Grazie mille In bocca al lupo per il proseguo della stagione